Sì ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo circoncisi, tutti quanti eh Tutti i miei link in descrizione come sempre Tempestate di like questo video a bomba e a tempesta Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto Venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina per non perdervi nessun video Inoltre in descrizione vi lascio il link del mio secondo canale YouTube Mi raccomando iscrivetevi a quel canale YouTube E attivate la campanellina anche lì E vi lascio anche il link della playlist con tutti gli episodi dei I numeri degli YouTuber, link in descrizione Vi zeonare il numero di kabilame Cioè siamo arrivati a questi livelli al numero di kabilame Via! Ehi lo so ma tu sei la più bella secondo me Ehi lo so ma tu sei la più bella secondo me In che senso? No raga vi giuro sto per esplodere Ehi Gabi ci sta provando Ci sta provando Non sa nemmeno se è maggiorenne e ci sta già provando eh Ascolta chiudi la conversazione Questo non è Gabi Fidati non è lui Al 100% non è lui Oggi a mente in amicizia Oggi a mente in amicizia Logicamente in amicizia Ovviamente in amicizia Ma come cazzo scrive? Gabi! Ma veramente Ma no Allora Forse è lui eh Forse Allora da questa frase Mi sa che forse è veramente lui Potrebbe essere eh Potrebbe essere Oggi a mente Cosa vuol dire Gabi? Vabbè mamma mia ragazzi Non potete capire Come sto in questo momento E infatti non lo possiamo capire Non lo possiamo Ma manco tu puoi capire noi Come stiamo in questo momento Cioè sto letteralmente Degenerando Aiutatevi Non so cosa rispondere Eh io sono tipo sì Sì lo so Perché tanto so che sto in amicizia Raga solito quiz Numero 1 È lei stessa che si sta messaggiando con due cellulari? Botta e risposta Numero 2 È lei che messaggia con un suo amico O con una sua amica in un'altra stanza della casa E si scambiano i messaggi Mentre il suo amico e la sua amica fa finta di essere Kabilama? Oppure è lei Che non sa che quello non è Kabilame E sta messaggiando con uno stalker dall'altra parte del mondo Tipo Parkinson e Cestino ad esempio La 1, la 2 o la 3? Scrivetemelo nei commenti Secondo voi qual è? Fatta anche la rima Sono un genio Allora Mi dici come ti chiami su TikTok? No Non te lo dice No No Allora ragazzi Io come mi chiamo su TikTok Non posso farlo vedere nel mio video? Bravissima Bravissima Grande Grande Io come mi chiamo su TikTok Non posso farlo vedere nel video Brava Bravissima Da qui capisco che ha capito che egli non è il lama Ok? Non è il Dalai Lama che dice di essere Però non so se io dico mi chiamo Mi sa che se l'ha inventato sto nome Ma scrive un draga Ovviamente lo censurerò il mio nome Ah sei tu Ah perché la conosci? Cioè lui la conosce? Ah sei tu Ah 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 Sì sono io Sì sono io Sì sono io Ma vai a cagare Ma che ti sei? Ma chi è? Poi chi sarebbe? Boh Quindi lui la conosce Lei è una sua fan E lui è un fan di lei Intreatment Io già ti seguivo allora Cioè si seguono a vicenda Si stalkerizzano come se non ci fosse un domani Sono due anime gemelle raga Come tipo il lama e l'alpaca Uguali no? No Però appartengono penso alla stessa famiglia No no vabbè ragazzi sto morendo Sto morendo letteralmente Tra l'altro raga Link in descrizione di tutta la serie Dei video Dei numeri degli youtuber Link in descrizione perché C'è di tutto raga Di tutto Ne vedrete delle belle Delle bellissime Delle epiche Di tutto Link in descrizione Aspetta Ma tu Sei il vero vero? No Non è il vero vero Fidati te lo dico io Non è il vero vero Non è il due volte vero Credimi Perché ma ragazzi Mi sembra un po' fake Come si comporta Poi magari è vero veramente Però se fa così Mi sembra un po' fake Non lo so perché Brava Ci sei arrivato È fake È fake Certo non mi credi Sì sì ma come non ti crediamo Certo che ti crediamo Assolutamente ti crediamo Ti crediamo al cento per cento Io non ci credo Sì sì ti credo assolutamente 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 Ma mi sembri Un po' Fake di merda Scrivigli Fake di merda Mi prendo la responsabilità Scrivi Sei un fake di merda Fake Ragazzi se si arrabbia E sti cazzi se si arrabbia Se è fake è fake Non puoi dire che è vero Se è fake Sta scrivendo Ha fatto una faccina incazzosa Qui gatta cicova eh La situazione sta diventando calda e bollente Ora non ti seguirò più No ragazzi Non mi aiuto Mi prego Ora non ti seguirò più Eh dai No l'hai ferita Veramente Hai detto una cosa Veramente E adesso ci mettiamo tutti a piangere E sti cazzi Se sei fake Ora non ti seguirò più Proprio da questa cosa Da questa cosa del seguire e non seguire Si è capito che è fake Oltre a tutte le altre stronzate Devo dire No No Ti please cabi Ti please cabi Invece di dire ti prego cabi Ti please cabi E quindi raga L'hashtag per questo video è Hashtag Ti please cabi Raga scrivetemi tutti nei commenti Ti please cabi Perché è veramente qualcosa di epico Sei il mio idolo No ragazzi non può succedere Non ce la faccio a piangere Da ridere Non riesco a piangere Quando vedo ste cose È solo da ridere Basta Ehm Sto cosendo Vabbè ragazzi Sono scioccato Ehm Anche io sono scioccato Anche io Tantissimo Ehm Ehm Va bene Grazie Devo dire Grazie Minchia si è convinto subito Ehm Va bene Cioè così subito Si lascia convincere facilmente cabi Eh Sono ancora scrivendo ragazzi Sì Non volevo farti piangere Cabi Guarda che quelle sono solo emoji eh Non è che ha pianto davvero Cioè tu lo sai questo Si Non volevo farti piangere Gli scrive Cioè qui veramente siamo a livello di cartoni animati Qua siamo a livello mentale tipo Manicomio raga Manicomio Tranquillo Sei il mio idolo Idolo Lo sesso Sei il mio idolo lo sesso Perché comunque resta comunque il mio idolo eh Cioè non vi pensate In ogni caso resta comunque il tuo idolo E te lo puoi tenere Tieni tranquilla Fidati Siamo contenti tutti che comunque è sempre il tuo idolo Tranquilla Dai grande 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 Un idolo fake eh Perché questo è fake Non lo perdere mi raccomando eh Conservatelo bene E non lo perdere Sono stra in ansia Voi non potete capire Cioè sono riuscita ad avere il numero di cabi Il mio più grande idolo Cioè mi è da piangere Qua si stanno cominciando a fare adesso le pippe mentali Chissà per quanto andranno avanti così E spero che finisca presto sta cosa Mamma mia ragazzi Non potete capire la mia ansia Ogni suo messaggio mi sale l'ansia Vaso a registrare qualche viduo Ma che cazzo? Ma si chiama che cazzo? Mi piace come è esuberante Come si elettrizza quando legge certi messaggi Dai ora vado Vaso a registrare qualche viduo Cabi ma una lezione di italiano magari Di grammatica ti servirebbe mi sa eh Ma siccome è fake siamo tranquilli Ci sta bene così Ok comunque Ciao Cabi Comunque l'importante è che si è levato dalle palle Cioè nel senso va che stanno chiudendo la conversazione Fortunatamente Anche lei se ne accorta che è un astrogeo Dice ma che sta scrivendo C'è qualcosa che non va Se ne sta accorgendo finalmente Alla fine del video se ne sta accorgendo Ok ragazzi è andato offline Mamma mia ragazzi Ditemi se volete il numero di qualcun altro Che se riesco li prendo e ve li farò Si si fanne tanti i numeri Fanne tanti Voglio vedere dove li trovi Tranquilla tranquilla che ti faccio le parodie Fanne tantissimi Inizia raga Inizia 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 Non ci sto credendo veramente Non ci posso credere Cioè sono veramente incredula di me stessa Che sono riuscita a essere a Cabi Lame Cabi Lame è il mio idolo più grande Ma guarda concordiamo con te al 100% Manco noi ci crediamo eh Manco noi